tutti quanti ormai stanno cercando di produrre oltre alle power station anche dei power bank che possono essere più o meno grandi che possono avere caratteristiche che li fanno spiccare o distinguere dalla massa o possono provare a inventare dei dispositivi che non esistono tipo il bluetti x20 ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo di questo oggetto particolare questo specie di cubettone questo panetto di plastica in realtà è un power bank ma potremmo anche chiamarla piccola power station questo perché perché le power station sono quelle che tramite le batterie interne che possono essere a circa 50 volt ok facciamo un numero a caso innalzano la tensione perché dentro hanno un inverter e la portano al 230 volt in ac dove poi attaccate le spine questa è la power station poi ci sono le power bank che sono più piccole hanno dentro delle batterie normalmente escono con delle porte usb eccetera non arrivano a fare tensioni altissime almeno quelle normali qui invece abbiamo un dispositivo che in pratica è una grossa power bank perché vedremo che ha delle uscite type a type c come fosse una di quelle tascabili però in realtà è così grossa per un motivo perché innanzitutto parliamo di un dispositivo che ha una potenza totale che riesce a derogare di 288 watt e ha una capacità interna delle batterie per un accumulo totale di 153 watt ora che sono poi 12 ampere ora su un pacco batterie è da 12.8 volt questo dispositivo alla particolarità però che ha un'uscita e dopo la vedremo a 20 volt quindi è una specie di micro power station perché questa tensione del pacco batteria 12.8 la innalza fino a 20 volt perché hanno messo questo 20 volt su una grossa power bank perché di fatto nasce per alimentare i vostri portatili praticamente tutti senza aver bisogno di portarvi dietro il caricabatteria da rete quello 230 perché lei direttamente con un cablaggio una serie datatori vi permetterà di caricare alimentare il vostro notebook quindi alla solita domanda che ci facciamo ossia ne avevamo bisogno posso dirvi magari l'ottanta per cento della gente no però chi fa un utilizzo magari in viaggio di portatili eccetera con un dispositivo del genere ha una buona non infinita una buona riserva di energia e anche se avete solo il portatile non avete dietro il caricatore o non avete una power station con le prese collegandovi direttamente all'X20 riuscirete ad alimentare il vostro notebook ora tagliamo la testa al toro però mi raccomando prima di andare avanti iscrivetevi al canale che a voi non costa nulla è solo un click zero gratis ma mi aiutereste molto a far crescere il canale buon video spacchettiamo poi facciamo un po di prove allora eccolo qua scatola molto molto compatta apriamola subito anche in un prodotto così piccolo abbiamo scatola nella scatola power bank portatile x20 12.000 miliamper ora 153.6 watt ora confezione diversa dal solito anteprima del prodotto caratteristiche x20 abbiamo già visto la capacità celle live po 4 abbiamo un ingresso di ricarica usb c fino a 20 volt 5 ampere 100 watt massimi tutte le uscite usb a 1 5 volt tram per 9 volt 2 ampere 12 volt 18 watt massimi usb a la seconda 5 volt 2.1 ampere 10.5 watt massimi porta dc 20 volt particolare 8 ampere 160 watt massimi poi le usb c che fanno 59 12 15 volt tram per 20 volt 5 ampere per un massimo di 100 watt e su questa porta type c abbiamo un chip che si chiama e merker che garantisce delle prestazioni migliorate non fate caso alla mia mano è un po rovinata temperatura di ricarica da 0 a 40 gradi temperatura di scarica da meno 20 a 40 quindi si può usare anche al freddo in umidità controllata dal 5 al 95 per cento non metterlo a contatto però con i liquidi non lasciarlo sotto la pioggia lontano dalla portata dei bambini non direttamente esposto al fuoco non a temperatura superiore ai 60 gradi tutte le raccomandazioni del caso qui tutti i contatti direttamente sull'etichetta va bene possiamo aprirlo qua troviamo subito un bel po di cavi cavo type c da una parte e dall'altra abbastanza buono non sembra ad altissima potenza poi c'è questo cavo vedete che a tutti questi adattatori si collega da questa parte quella più cicciona all'uscita del nostro x 20 e di qua tramite tutti questi adattatori possiamo replicare praticamente tutti gli attacchi che esistono in commercio per alimentare notebook device vari istruzioni cartacee in inglese e qua già nel manuale ci fa vedere tutti gli adattatori per cosa sono lenovo altro modello di lenovo altro modello di lenovo del acer samsung sony hp asus universale di nuovo hp insomma dovrebbe fare un po di tutto o finalmente il nostro gioiellino sensazione già molto raggede plastiche tutta questa plastica del classico colore bluetti questa invece grigia e gomma quindi abbastanza rinforzato di gomma abbiamo anche quattro piedini antiscivolo tutta la carcassa che non è assolutamente croccante ben ben robusto due chili e due logo bluetti tutti i dati sotto che abbiamo già visto prima qui abbiamo raffreddamento ci sono ben due ventole di qua solo il passaggio per l'aria poi abbiamo le porte qui laterali che sono la power delivery che fa ricarica e uscita da 100 watt questo famoso connettore a 20 volt 8 ampere usb a quella da 18 watt e l'usb a quella da 2 ampere allora non mi fanno impazzire questi adesivi che hanno messo sotto le porte di qua abbiamo display con tasto di accensione spengo la luce lo accendiamo vediamo se è carico arriva al 55 per cento e chiaramente finché non lo carichiamo o non lo scarichiamo non segna null'altro sul display tasto gommato retroilluminato per spegnerlo lo teniamo premuto facciamo subito un po di prove ho recuperato tre portatili un toshiba un hp un del ognuno con il proprio adattatore vedete che questo è molto grosso del mio del questo è molto piccolo sull'hp e sul toshiba un connettore che sembra quasi un 6 mm accendiamo l'x 20 lui si attiva del forte sono già automaticamente attivate proviamo ad esempio ad attaccare il toshiba e vedete che parte la ricarica in questo momento sta tirando 17 18 watt quindi si accende l'indicatore dell'uscita a 20 volt ci scrive dc output 18 volt il display non è bellissimo come definizione come grafica è abbastanza minimale però c'è quello che serve proviamo ora ad attaccare l'hp questo in portatile un po più della bagliona infatti carica solo 3 watt proviamo ad attaccare il mio del e lui ad esempio arriva quasi a 30 watt di ricarica l'universalità c'è in base al device che dovete caricare sicuramente troverete l'adattatore idoneo consultate poi la lista di compatibilità se avete qualche dubbio proviamo invece adesso a caricarlo con un cavo a 60 watt su un'uscita da 100 vediamo cosa succede di bello chiaramente i bluetti qua non mancano carichiamo con questo no allora mi dà una ricarica power delivery in ingresso che sta salendo sta salendo sta salendo arriva esattamente a 60 watt che è la portata del cavo vedete in uscita ne abbiamo 55 qui entrano 57 c'è un po di discrepanza proviamo invece con un cavo ad alta potenza vediamo se riesce effettivamente a caricare a 100 watt vediamo se parte la ricarica ea che potenze arriviamo vedete che sale 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 19 20 23 78 93 95 non arriviamo a 100 watt ma arriviamo comunque a 95 effettivamente riusciamo a caricarla ad alta potenza adesso abbiamo 19 watt sull'uscita in dc stiamo caricando un computer attacchiamo anche un'uscita sull'usb a vedete che mi dà altri due watt perché sto caricando una telecamera attacchiamo un altro telefono sull'altra usb a che va in ricarica arriviamo quindi a 11 watt sulle usb 19 sulla porta da 20 volt ora proviamo ad attaccare anche sulla porta usb c in modalità power delivery un telefono in ricarica super fast charge vedete che va in ricarica veloce in questo momento mi sta caricando a 45 watt questo telefono sulla porta dc sempre 20 watt del portatile e sulle altre usb altri 11 watt quindi in questo momento sta tirando fuori 74 watt totali senza nessun problema è chiaramente un oggetto molto versatile per portarvi una riserva di energia importante ovviamente principalmente in mobilità ma nulla vieta magari di usarla a casa la caricate con una power station che magari ha raggiunto il 100 per cento di ricarica dai pannelli allora per sfruttare ancora un po di energia che proviene dal sole potete attaccare con la porta type c e usare 100 watt in uscita per aumentare virtualmente l'accumulo che avete caricato per poi utilizzarla o per device portateli piccoli o per alimentare direttamente un computer viceversa la caricata a casa ve la portate in giro nello zainetto e tranquillamente trasportabile e vi dà una buona sorgente una buona autonomia da portare in giro ok dopo aver fatto tutte queste prove però mi verrebbe voglia di vedere com'è fatta dentro non faccio un video a parte lo vediamo già qua allora iniziamo con svitare le quattro viti che si vedono sul fondo che una volta ribaltata cadranno ok tiriamo via il coperchio e qua possiamo trovare tutta la parte elettronica lì sotto ci sono le batterie vediamo se riusciamo ad arrivarci qui troviamo le ventole notate il dettaglio con cui per le vibrazioni vengono bloccate con questa parte adesiva in neoprene un connettore di predisposizione non usato ma con un ponticello tiriamo via la ventola sono delle piccole ventole a 5 volt però garantiscono in caso di bisogno il raffreddamento necessario tiriamo via anche l'altra poi abbiamo i connettori che vanno al pacco batterie questi sono i cavi che vanno all'ntc la parte di potenza arriva direttamente su queste due lamelle vediamo la tensione e abbiamo un pacco da 13.28 volt intanto possiamo notare che la scheda è tropicalizzata in quasi tutta la superficie non dappertutto ad esempio qua che non ci sono componenti no qui neanche tutto il resto dove ci sono componenti è stata rivestita allora proviamo a rimuovere la parte del display quindi stacchiamo questo piccolo connettore a due fili togliamo anche questo che è un connettore a tre fili che va sempre allo schedino e anche qua possiamo notare come i fili vengano resinati in uscita e non vengano lasciati liberi sul piccolino due fili no ma ci sta anche tutti questi sono resinati questi a tre fili allora abbiamo staccato il display possiamo staccare anche il flat stacchiamo l'ntc1 l'ntc2 e anche questo tre fili e qui sotto riesco a farvi vedere pacco batterie che composto da 1 2 3 4 5 6 7 8 elementi che sono delle 32 700 da 6.000 miliamper ora 3.2 volt sono celle life po 4 di forma cilindrica tradizionale e anche queste sono collegate in serie parallelo per ottenere il pacco a 12 volt questo cosa vuol dire vuol dire che anche l'uscita a 20 volt viene ottenuta con un innalzatore integrato nel circuito qui vedete che abbiamo la connessione dei fili blu verde giallo che va a gestire il comune e poi i due gruppi principali e qui le sonde collegate ai due gruppi principali sempre ottima qualità elettronica sviluppata e realizzata da bluetti questa scheda è una adesso probabilmente qua sotto c'è qualche altra sigla comunque il logo bluetti l 399 p 04 qua abbiamo un volevo capire se c'era una versione un release ma non lo trovo va bene quindi scheda principale gruppo display pacco batterie scheda delle connessioni due ventole e abbiamo visto i componenti interni della nostra x20 bene un dispositivo che secondo me per qualcuno può essere molto interessante per altri probabilmente ignorerete la presenza dello stesso ma vi posso comunque dire che è un oggetto che chiaramente avete visto è fatto con la classica qualità bluetti anche a livello interno componentistica celle assemblaggi cavi chi più ne ha più ne metta loro curano tutti i dettagli questo oggettino qua costa attualmente sul sito ufficiale di bluetti vi lascio il link in descrizione 199 euro ma vi lascio anche un codice sconto del 10 per cento che sono sempre meglio in tasca noi che in tasca loro e insomma con meno di 200 euro vi prendete un dispositivo che se serve per il vostro lavoro la vostra passione in mobilità sicuramente può darvi una mano ovviamente non solo per alimentare i portatili ma anche per caricare tutti i vostri device supporte usb e diciamo che accumulo qua ce n'è abbastanza questo è tutto se vi è piaciuto il video un bel like mi raccomando che non costa nulla ci vediamo al prossimo video prossima diretta del giovedì sera che adesso a gennaio riprenderanno se passate qua negozi un caffettino e ve lo faccio toccare con mano grazie a tutti ciao da massidattoli